Lungo la silenziosa via Iacobino Longo sorge il monastero della visitazione fondato nel 1643 da San Francesco di Sales e Santa Giovanna Francesca di Chantal. La chiesa annessa risale al 1671 e conserva un pregevole ritratto della beata Margherita Lacocque. La storia racconta che da otto anni le suore dimoravano in una casetta in affitto senza avere la possibilità di acquistarne una propria. Le aspettative di tutte erano rivolte verso la casa porporato la quale situata in bellissima posizione era per l'aria pura e per la lontananza da ogni soggezione fra tutte la più desiderabile. Così il marchese porporato pensò di approfittare, vista l'assenza dalla città del governatore, per intavolare con le suore trattative di vendita del suo palazzo. Esse terminarono il 14 aprile 1643 con la firma di un contratto secondo il quale la comunità diventava proprietaria della casa. Il 24 aprile 1643 fu un giorno di esultanza per le suore che lasciavano la casetta del borgo per recarsi in processione dove la provvidenza le conduceva. Il palazzo porporato era circondato da orti, giardino e bosco che confinavano da ogni parte con la strada pubblica. Benché il palazzo fosse in cattivo stato e pericolante, le suore non lo demolirono subito, bensì continuarono ad usarlo per molto tempo ed intanto acquistarono a scadenze più o meno lunghe alcune casette ed orti nelle sue adiacenze per demolirle e così aumentare il terreno disponibile per la costruzione e assicurarsi lo spazio per la clausura. Finalmente giunse il momento di iniziare i lavori. La prima pietra del fabbricato, che venne costruito a più riprese, con intervalli di parecchi anni tra l'una e l'altra, fu posata con molta solennità il 7 aprile 1666, durante il governo della madre Giovanna Benigna Dufaug, presenti tutte le autorità religiose e civili di Pinerolo. Fra i più insigni benefattori che aiutarono le religiose ci furono il re di Francia Luigi XIV, il governatore di Pinerolo, Antonio Bruillet, Marchese d'Erleville. I lavori proseguirono man mano secondo le possibilità economiche. Si costruì l'ala di Mezzogiorno, l'ala di Levante, poi a nord la chiesa ed il chiostro. Si provvide a sistemare il cimitero, poi un lungo periodo di interruzione dei lavori per saldare gli ingenti debiti, per riprendere poi nel 1677. Nel 1711 si edificava il lato ovest e, a lavoro ultimato, i quattro chiostri risultano circondare un giardinetto, detto impropriamente parterre. Il monastero, costruito sulla viva roccia della collina, confina a nord con via Iacobino Longo, mentre sugli altri lati è circondato da un grande orto che via via si è trasformato in vigna, frutteto, prato, cortile, pollaio, con grotte scavate nel masso per l'acqua piovana raccolta dai tetti. L'orto è custodito da un alto muro della clausura, su cui si vedono alcune croci di pietra con dentro reliquie di santi. Particolarmente bella è la chiesa della visitazione, la cui costruzione cominciò verso il 1671. Parecchie generazioni di suore si avvicendarono per renderla un piccolo gioiello. Scelsero lo stile barocco piemontese e il 29 gennaio 1678 la chiesa, finita nelle sue parti essenziali, fu benedetta e dedicata a San Giuseppe.